Buonasera ad Alfonso Buonafede, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ministro in pectore di Grazia e Giustizia nel gabinetto Ombra, presentato prima delle elezioni del Movimento 5 Stelle. L'attuale ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando del Partito Democratico arriverà dopo a raccontarci i veci di travaglia del Partito Democratico. Buonasera a Peter Gomez, direttore del Fatto Cotidiano.it. Ve lo dico perché vale la pena sabato, anche direttore di Millennium, il mensile sabato numero bomba che esce in edicola con Rivelazioni, Flavio Carboni e chi più ne metta. Non sono un'Italia fondata sui segreti e sui ricatti, vedremo se i ricatti funzioneranno anche. Va bene, allora sabato in edicola. Buonafede, la prima domanda è doppia, gliela voglio fare io. Oggi Marco Travaglio, proprio sul fatto, nell'editorale sul fatto, faceva notare che in realtà Di Maio il primo riferimento a questo contratto di programma, il primo partito nominato è stato il Partito Democratico. Siamo disponibili, lo ha detto da Giovanni Floris, a un contratto di programma con il Partito Democratico oppure con la Lega. È casuale aver messo prima il Partito Democratico? Esiste, diciamo, un primo e un secondo, una prima e una seconda opzione, se non altro dal punto di vista delle probabilità, se non quelle delle scelte? Ma la seconda domanda è più profonda ed è questa. Voi volete fare un contratto di programma, quindi trovare dei punti comuni, ma fare un contratto di programma col PD o farlo con la Lega significa avere due idee di paese, di futuro, orizzonti politici e culturali opposti, molto diversi. Questo che significa? Che se vi rivolgete al PD è tutto un tipo di di contratto e se vi rivolgete alla Lega è tutto un altro tipo di contratto e allora voi chi siete? Allora, cominciamo col dire che tutto parte il 4 marzo. Il 4 marzo i cittadini con il loro voto fanno una richiesta precisa e inequivocabile, cioè vogliamo un cambiamento nella politica italiana. Tutte le forze politiche, quindi secondo noi, hanno il dovere di dare una risposta a quella richiesta di cambiamento. Ci troviamo con una legge elettorale, tra l'altro noi siamo gli unici che non hanno votato questa legge elettorale, che però di fatto impedisce di avere una maggioranza assoluta e quindi impone a tutte le forze politiche di confrontarsi. Il Movimento 5 Stelle, così come aveva detto prima delle elezioni, quando dicevamo se noi non avremo la maggioranza assoluta, ci confronteremo sui temi e sulle cose da fare con le altre forze politiche. In piena coerenza con quanto avevamo detto, abbiamo fatto questa apertura fin dal giorno dopo le elezioni e oggi confermate al Presidente della Repubblica, in cui diciamo però, contrariamente a tutto quello che è accaduto in passato, perché questa è la novità assoluta e cioè, diciamo alle altre forze politiche, siamo chiamati a fare e abbiamo la possibilità di fare quelle cose che gli italiani chiedono da 30 anni. Facciamole, ma senza i soliti giochetti del passato. Nero su bianco stipuliamo un contratto, come avviene in Germania, in cui indichiamo nero su bianco quali sono gli obiettivi che si propone il governo e quali sono le procedure, i modi e i tempi di realizzazione. Però gli italiani non chiedono tutti la stessa cosa. Ci sono italiani che chiedono alcune cose, italiani che ne chiedono altre, ci sono italiani che vogliono che gli sbarchi vengano bloccati immediatamente e italiani che preferiscono un paese in cui l'integrazione funzioni meglio, ci sia un'accoglienza diversa, ci sono italiani che credono nel taglio delle tasse, altri che vogliono il reddito di cittadinanza. Queste due Italie, voi non potete dire che il vostro contratto è solo il vostro, dovete trattare, no? Certo, direi che stando al risultato delle elezioni c'è un 32,6% degli italiani che ritiene che le risposte giuste a tutte le problematiche che lei ha individuato possano essere individuate nel programma del Movimento 5 Stelle, nei famosi 20 punti per la qualità della vita. Manca un 19%. Quello è il punto di partenza, dopodiché su quel punto di partenza che è la nostra proposta dobbiamo, abbiamo il dovere di confrontarci con le altre forze politiche, a quel punto individueremo temi e soluzioni, valuteremo quali sono le convergenze, valuteremo quali sono le divergenze e sulla base di quel contratto potremmo dare una risposta agli italiani a dire, ecco, da oggi lavoriamo per fare... Scusi, però lei mi sta dicendo, quindi poi... Adesso, per rispondere alla sua domanda, mi diceva c'è un'opzione che preferiamo? No. Noi ci confronteremo serenamente con le altre due forze politiche e se questo e quello, pari sono, o se ci sono delle differenze tra di loro, lo valuteremo non in quello che dicono, ma in quello che si impegneranno a fare, perché quel contratto sarà vincolante. Sintetizzo, la parte politica che acconsentirà alla maggior parte dei punti che voi proponete sarà la parte che voi, diciamo, privilegerete. Non la voglio correre in questi termini, perché è evidente che il Movimento 5 Stelle, essendo la prima forza politica del Paese, deve prendersi la responsabilità di guidare questa fase delicatissima e nel farlo, chiaramente, deve avere un confronto sereno. Non voglio dire, questi sono i nostri punti, chi ci sta, ci sta. La vecchia ricerca democristiana. No, qui non si parla, né in Dinciucci. Lei mi dica se nella storia italiana risulta una sola volta in cui il punto di partenza siano stati i temi e non le poltrone. Noi siamo abituati in Italia a vedere forse politiche e il giorno dopo le elezioni dicono tu quale poltrona mi dai e tu quale poltrona mi dai. Qui, solo per chiudere, qui quello che chiediamo è, non parliamo di poltrone, ma tu cosa vuoi fare. Bene, abbiamo capito. L'esperienza tedesca, ultima esperienza tedesca. Prima la Merkel ci prova con una parte politica, con due partiti, va male, poi ci prova con l'SPD, 177 pagine, 14 punti, anche nelle virgole tutto bene, però a un certo punto l'SPD ha dovuto ovviamente dare dei ministeri. domanda precisa, dato che facendo un contratto si va a un governo di coalizione, voi siete disponibili con chiunque governerete, Lega o Partito Democratico, a dare dei ministeri perché nessuno accetterà mai se no di sostenervi senza ministeri. La nostra risposta precisa è che di ministeri ne parleremo col Presidente Mattarella. Questa è la risposta che abbiamo dato. Questa è democristiana, dire parleremo col Presidente Mattarella e potrebbe poterla dirlo Aldo Moro, voglio dire, che magari, cioè voglio poi lei possa... Guardi, la devo contraddire, la devo contraddire perché in questo mese post-elezioni il Movimento 5 Stelle ha dimostrato nei fatti di mantenere la barra dritta, di cercare di raggiungere gli obiettivi nell'interesse dei cittadini italiani, come quello di avere la Presidenza della Camera, che ci potrà garantire anche la possibilità di intervenire sui vitalizi, però un attimo, non ci siamo prestati a nessun Nazareno Biz, abbiamo posto dei paletti importanti, non ci fossero condannati, noi continuiamo a mantenere la barra dritta. Onorevole Buonafede, però lei ha detto, noi ci siamo rivolti ai partiti, no, voi vi siete rivolti a Lega e Partito Democratico, immagino che anche l'EU che faccia parte, quindi voi avete messo un veto su Berlusconi. Mi può spiegare esattamente, è un veto personale su di lui, lo è perché è un condannato, mi spiega la ragione per cui voi non farete mai un governo con Forza Italia e non fare un governo con Forza Italia significa anche chiedere esplicitamente, dire esplicitamente che non volete i voti in un'eventuale fiducia da parte di Forza Italia? Allora, innanzitutto le spiego perché abbiamo individuato come interlocutori la Lega e il Partito Democratico, semplicemente perché di fronte a una legge elettorale che impone di confrontarsi con le altre forze politiche abbiamo individuato la seconda e la terza forza politica del Paese che sono evidentemente alternative tra di loro. Il Partito Democratico col 18%, seppur uscito molto indebolito da questo voto è ancora la seconda forza politica del Paese, la Lega rafforzatissima da queste elezioni ha il 17%, quindi con loro ci confrontiamo. Su Berlusconi, oltre a chiaramente tutto quello che abbiamo detto in passato su Berlusconi rimane, ma in questa fase il punto principale è il punto di partenza, e cioè i cittadini hanno chiesto un cambiamento. Nel quadro politico che risponde a quella domanda di cambiamento non può più esserci Silvio Berlusconi e questo è sotto gli occhi di tutti, perché se i cittadini dico guarda io la risposta alla tua domanda di cambiamento è... non c'hai capito niente, perché io più di come te l'ho chiesto che devi cambiare... Quindi il voto di fiducia di Berlusconi non lo volete, neanche se lui non vi chiedesse poltrone in cambio? Io non posso obbligare i deputati o i senatori di parte Italia a votare... La imbarazzerebbe personalmente un governo di Maio nato anche col voto favorevole dei Forza Italia? A me interessa il contratto che mettiamo alla base di quel governo in cui Silvio Berlusconi non ci sarà. E tra l'altro, guardi, sono divergenze che sono nate già nei primi tavoli di confronto, perché noi abbiamo già avviato dei tavoli di confronto con i nostri gruppi... La legge sul conflitto di interessi, per intenderci, che è un punto qualificato... L'ha detto lei, io sono il candidato ministro della giustizia del Movimento 5 Stelle... Ma... La prima cosa che vorrebbe fare da ministro qual è? Se lo dica... No, 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 attenzione, attenzione... No, ci sono tre punti chiavi che a me piacerebbe portare avanti, uno quello sulla prescrizione... Cioè, quindi, l'allungamento dei tempi di prescrizione? L'interruzione, almeno dopo la condanna di primo grado, così come ci sarebbe da intervenire nel processo civile e così come ci sarebbe da intervenire nella lotta alla corruzione che tutti i cittadini onesti di questo paese vogliono attraverso strumenti più efficaci che adesso non ci sono. Tipo la gente, come si dice, provocatore... Con tutte le cautele, le tutele costituzionali anche la gente... Cioè, tutte le cose che farebbero venire la scabbia a Berlusconi, diciamo, immediatamente, praticamente... Faccia lei. Però c'è un punto su questo, benissimo parlare con tutti, parlare con la Lega, col PD, ma parlo a quello, all'aspirante ministro di Grazia e Giustizia che vuole lottare contro la corruzione. Nel programma della Lega, e non solo di quello centro-destra, separazione delle carriere, PM, carriere diversa di giù, due consigli superiori della magistratura, riforma, immagino in senso negativo delle intercettazioni. Non mi pare che da questo punto di vista la Lega, salvo per una lo, su certi aspetti sì, sul carcia, eccetera, ma diciamo, sui reati e sulla pubblica amministrazione la segua. Segue molto più Silvio Berlusconi. Ascolti, io glielo dico chiaramente. Sulla giustizia, noi e il Partito Democratico, all'inizio della scorsa legislatura, avevamo un programma molto simile. Poi l'applicazione del programma da parte del Partito Democratico si è persa strada facendo. Io non valuto le forze politiche in base a quello che dicono in campagna elettorale. In questo voglio essere sincero. Io valuteremo, il Movimento Cinque Stelle valuterà la convergenza con le altre forze politiche sulla base di quello che loro saranno disposti a mettere nero su bianco e firmarlo. E questa è la novità assoluta che è posta a garanzia, prima di tutto, di tutti i cittadini che hanno votato e che vogliono sapere cosa facciamo. Ma sì, però ci sono dei punti che sono molto qualificanti, no? Le dicono, voi avete fatto tutta la campagna elettorale sul reddito di cittadinanza, no? Allora, mettiamo il caso che voi Salvini vi mettiate lì a fare questo contratto e che vi troviate d'accordo sul 90% delle opzioni, ma che Salvini le dica reddito di cittadinanza, no, perché i nostri imprenditori del Nord non lo capirebbero, invece facciamo una riduzione delle tasse molto forte, eccetera. Cioè che andassero a chiedervi un sacrificio su un punto che è stato il punto cardine della vostra campagna elettorale. Ecco, la risposta quale sarebbe? Io capisco che lei fa il suo lavoro e mi deve fare questa domanda, però le chiedo anche di comprendere che noi oggi abbiamo fatto un'apertura importante, che abbiamo posto alla l'attenzione addirittura del Presidente della Repubblica e non posso anticipare in alcun modo quello che potremmo dire a quel tavolo. Non sarebbe rispettoso della serietà di quella trattativa. Non possiamo dire nulla, né in un senso né nell'altro, perché è giusto in questa fase, nel rispetto di quello che noi abbiamo detto, sedersi al tavolo serenamente senza nessuna preclusione. Il contratto alla tedesca nasce nel 2005, quando Angela Merkel riesce a mettere d'accordo con Schröder. La cosa fantastica, e qua non voglio fare un paragone con Bonafede, con Angelona, meno che meno, la cosa fantastica è che lei voleva la flat tax al 25% come Berlusconi. Dopodiché si sono seduti e della flat tax in Germania... No, eravamo Schröder. Ah, con Schröder, scusami. Schröder all'inizio diceva delle cose fantastiche, diceva mai con Angela Merkel, lei se lo sogna, non faremo mai il governo. C'è un'analogia tra le due situazioni, io non so come finirà. Diciamo però, questo lo dobbiamo chiarire, che ci sono delle categorie che questo contratto, cioè dei temi che questo contratto dovrà affrontare, perché c'è la lotta alla povertà, la lotta alla corruzione, politica e la gestione del fenomeno dell'immigrazione, la lotta alla disoccupazione, le tasse. Però le ricette sono diverse. No, voglio chiarire che non è che sarà un contratto che dice guarda, abbiamo trovato l'accordo su queste due cose e poi tutto il resto non lo trattiamo, no. Chiaramente la convergenza deve dare la possibilità a questo, all'eventuale governo in cui noi crediamo molto, di poter fare le cose. Questo deve essere la differenza enorme rispetto al passato. Se sbaglio, la sensazione è che ci sia una mutazione veramente profonda nel momento 5 Stelle, così profonda da azzerare quasi tutto quello che c'è stato prima, almeno a livello di dichiarazioni e di intenti. Per esempio, quando Di Maio dice che alcuni ministri del Partito Democratico hanno lavorato bene, quindi tende la mano a un pezzo del Partito Democratico e fa il nome di Minniti e Franceschini, ministro dell'interno e ministro della cultura. Però guardate cosa diceva Di Maio su Minniti e Franceschini. Ecco, allora, al ministro Franceschini non gliene frega niente della cultura, gli interessa solo far quadrare i bilanci, 6 maggio 2017. E su Minniti diceva sempre Di Maio, datemi il cartello dopo, grazie. Ecco, Minniti gioca a fare lo sceriffo di destra nell'ennesimo governo di sinistra nato in provetta, che in Libia ha registrato flop clamoroso e ha portato un aumento verticinoso degli sbarchi. Dico, avete cambiato idea, nel senso che poi la volontà di dare un governo a questo Paese fa anche un pochino premio su quelle che erano forse anche parole di propaganda elettorale, diciamo erano… No, il punto è questo. Noi in questi cinque anni non abbiamo mai avuto preclusioni di carattere personale o di carattere ideologico, anche perché noi l'abbiamo detto chiaramente, il Movimento 5 Stelle è una forza politica post-ideologica, quindi non è né di destra né di sinistra. Ci siamo confrontati sui temi, così come è stato per esempio sui reati ambientali, la legge sul divorzio breve porta la mia firma, così come porta le firme anche di alcuni parlamentari del Partito Democratico. È chiaro che nelle dinamiche dell'opposizione ci possono essere delle critiche anche aspre nei confronti di un ministro su un determinato tema, ora io non so in quel contesto a proposito di cosa è stato detto. Però anche lei condivide un giudizio positivo nei confronti di Minniti e Franceschini? Io condivido il fatto che sia Minniti che Franceschini sono stati ministri che potrebbero essere degli interlocutori, cioè che alla fine se uno fa una valutazione generale, ecco per esempio non hanno avuto preclusioni eccessive, a prioristiche rispetto al confronto del Partito Oggi Di Maio ha chiarito che non voleva spaccare il Partito Democratico, ma questo cosa vuol dire? Che voi potreste parlare domani se nel Partito Democratico riprendessero grandemente potere i Renziani, anche con i Renziani, non dico con Matteo Renzi che starà in seconda fila, ma con una Maria Elena Boschi. Cioè è caduto il veto su Renzi in sostanza? Ma forse non c'è nemmeno stato, comunque l'ha detto proprio chiaramente lui oggi. Le chiedo una risposta sintetica su questo. Si potrebbe discutere anche con loro? Oggi spieghiamolo, la precisazione di Luigi Di Maio nasceva dal fatto che qualcuno aveva messo in giro la voce per cui noi volevamo spaccare il Partito Democratico, quindi Luigi Di Maio ha chiarito. Io non entro nelle dinamiche interne al Partito Democratico, quando faccio questa apertura che è sincera, la faccio al Partito Democratico nella sua interezza e non mi interessa andare a dire no, questo sì e questo no. Non c'è, quindi se le presentano da Boschi noi parlate anche con la Boschi. Dopodiché loro troveranno una loro posizione ufficiale e in questo momento l'interlocutore è Martina. I nemici di sempre che provano a parlarsi, buona fede. Se Di Maio e Salvini si trovassero in cucina, qual è l'argomento su cui si troverebbero subito d'accordo? Ma nella cucina della politica, nella cucina del governo intendo dire. Non lo so, quello lo vedremo, ora seriamente come dicevo prima, lo vedremo al tavolo sia col Partito Democratico che con la Lega. Però alla fine la cosa che ci racconta questa storia bellissima di Massini è che voi avete fatto politica per anni diciamo in una splendida solitudine, uno splendido isolamento. Adesso vi state rendendo conto che poi alla fine le cose che uniscono anche parti che sembrano diverse sono a volte sorprendenti e passano anche dal rapporto tra le persone. Cioè voglio dire, cinque anni di Parlamento e di politica da questo punto di vista vi hanno cambiato, vi hanno fatto capire che alla fine la mediazione o il compromesso non sono per forza una cosa brutta e cattiva? Io posso dirle questo, che in cinque anni il Movimento 5 Stelle è cresciuto come nessuna forza politica ha fatto in Italia in decenni. Ce ne hanno dette di tutti i colori, e lei dice ma voi eravate in solitudine, però diciamoci anche che c'era un sistema che era contro di noi, che questo sistema politico e mediatico ma anche economico si è mosso per tenerci in un angolino del Paese. Se oggi il Movimento 5 Stelle è in una situazione in cui ha la possibilità di prendersi le responsabilità e grazie ai cittadini italiani che ci hanno votato e che ci hanno messo le carte in mano e ci danno la possibilità di avere una centralità in questo nuovo dibattito e chiaramente ci assumiamo le nostre responsabilità. E quello che vorrei manifestare e rappresentare è l'entusiasmo con cui noi portiamo avanti adesso questa fase, consapevoli che finalmente si possono fare le cose che da 30 anni i cittadini aspettano. E questo margine c'è sia con la Lega che col Partito Democratico, come si diceva ai Renziani, ma io dico che il Partito Democratico in questo bisogna dare atto che una riflessione l'ha cominciata e che Matteo Renzi ha fatto un passo indietro. Grazie ad Alfonso, buona fede. Non ci sarà nemmeno quella possibilità.